Per noi è importante essere presenti a Saie perché è comunque una fiera evento, un punto di riferimento per quanto riguarda l'edilizia in generale. Portiamo quest'anno il colore, è il primo anno in cui Saie introduce il colore nella propria manifestazione, quindi siamo orgogliosi di essere presenti e la viviamo anche come un po' una ripartenza, il rincontrare comunque quello che è la nostra clientela, i rivenditori e poi di conseguenza anche gli applicatori. Tra le novità di quest'anno c'è assolutamente un nuovo prodotto che è Cebo Marmo, ovvero una pasta di marmo che permette di riprodurre l'effetto marmorio in varie versioni. Noi presentiamo quattro effetti che vengono chiamati pietra imperiale, rinascimentale, pietra nobile e pietra classica. È un effetto lucido, molto elegante che si presta comunque a essere inserito in varie tipologie di ambienti, sia pubbliche che private. Le esigenze dell'abitare sono assolutamente cambiate anche perché c'è una maggiore attenzione e una maggiore cura per quello che è la casa, il vivere la casa. Grazie a tutti.